Mister, buonasera, Valeria Coi, Corriere Salentino. Era un bel test perché era comunque una squadra contro una squadra di Serie A. Complimenti innanzitutto sia per la prestazione e anche per il campionato. Lei immaginava una vittoria così larga e anche, tra virgolette, un po' semplice contro questo Lecce? Grazie per i complimenti, ma non è stata assolutamente una partita semplice. Anche la vittoria, anche nei numeri, mi sembra un po' poi per com'è finita perché abbiamo avuto un buon approccio alla gara con personalità, con voglia di giocare. Abbiamo trovato due gol, poi il secondo tempo il Lecce, come giusto che sia, perché per la qualità ci ha messo alle corde, ha riaperto una partita con grande merito. Sul 2-2 sembrava l'inerzia avesse preso una direzione favorevole al Lecce. Sulla ripartenza poi siamo stati ancora una volta fortunati in quella situazione. Il risultato chiaro è che il 4-2 è grande, ma anche in certi versi bugiardo. Ma la prestazione è lì. Sono contento di tanta cosa. Vincere è sempre complicato e soprattutto a Lecce, perché io continuo a vedere una squadra molto bella, che in Serie A sta facendo belle cose e per noi è stata una buona prova. Prego. Collega di Parma Senti, è stato un primo tempo, come hai detto tu, bello, un secondo tempo in difficoltà. Qualche leggerezza di troppo? Noi dobbiamo lavorare di più sul secondo tempo, almeno sull'analisi della gara la dovremo fare molto di più sul secondo tempo. Abbiamo avuto un buon approccio, potremmo fare subito il terzo gol con Miala, una bellissima giocata, una buona conclusione. E poi lì c'è da analizzare, perché è vero che c'è stato l'infortunio di Osorio, per 3-4 minuti è stato in campo. E lì ci vuole un po' più di esperienza, un po' più di astuzia, perché è un giocatore che non era pronto. La palla poteva essere buttata fuori, l'abbiamo tenuta dentro e a quel punto è venuto fuori il valore del Lecce con tante giocate di qualità e ci ha messo alle corde. Ci siamo solo difesi nella seconda parte. Sei partito con Somm davanti alla difesa insieme ai Stevez, Bonni che faceva il Somm, tanto per intenderci, e Benedicciac prima punta. Una mezza novità, non Bonni e Somm, ma forse Benedicciac prima punta. A memoria quest'anno l'avevo visto poco. Sì, immaginando la partita, per come potesse essere, abbiamo avuto un buon equilibrio, anche Somm, che per quest'anno è la prima volta che parta in mezzo al campo, con Aino che riuscì a darci buon equilibrio e buona struttura. Sono strafelice per la prestazione di Miala, perché 90 minuti li ha tenuti molto, molto bene. Questa partita lui deve dare molta fiducia, io sono veramente felice e mi sento di fare i complimenti a Vale perché chiudere 90 minuti in queste condizioni lo deve rendere sereno. Cosa ti porta in campionato questa vittoria in Coppa Italia? Cioè, terza partita in otto giorni, non hai fatto proprio quello che è un turnover, però hai toccato alcuni tasti. No, questa finisce qui e allora noi dobbiamo pensare su Tirol, che è una partita totalmente diversa, condizioni totalmente diverse e un aspetto tattico totalmente diverso. Per me non è turnover, già ve l'ho detto tante volte. Ho scelto i giocatori che sembravano che potessero essere adatti per la partita, metterli in campo e mi dispiace solo per l'infortunio di Osorio. Ci sono altre domande da parte dei colleghi? Buonasera. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie a tutti.